Tra i due litiganti il terzo gode, o almeno così sembra. Dal vertice romano di ieri a Palazzo Grazioli, il centrodestra, ricompattato dopo la fuga al governo della Lega con i 5 Stelle, ha deciso come suddividere tra le sue varie anime le candidature per le prossime regionali. A meno di clamorosi dietro front, sotto la spinta dei mal di pancia che si stanno manifestando in queste ore tra le liste civiche e i forzisti, la candidatura alla presidenza della regione Abruzzo dovrebbe spettare ad un uomo di Fratelli d'Italia. Il tutto in un quadro nazionale che vedrebbe in regione Piemonte la candidatura di un rappresentante di Forza Italia, in Basilicata di un delfino delle civiche gradito agli azzurri, in Sardegna in Trentino di un leghista ed in Abruzzo per l'appunto di un esponente del partito guidato da Giorgia Meloni. Emerso innanzitutto una cosa importante, che il centrodestra si proporrà in maniera unita in questa competizione elettorale molto importante. E poi c'è una possibilità anche abbastanza concreta che nella suddivisione nazionale Fratelli d'Italia possa indicare una donna o un uomo come candidato della coalizione, candidato che ovviamente dovrà trovare l'assenso dell'intera coalizione. Cosa accadrà ora, visto che nel centrodestra, soprattutto in Forza Italia ma anche nella Lega, c'erano state già delle candidature più o meno ufficiali per quanto riguarda la carica di Presidente? C'erano e penso ci sono ancora sul tavolo dei nomi di candidati spendibili, persone che hanno esperienza, persone per bene, persone che potrebbero tranquillamente far fare il salto di qualità alla nostra regione. Ma se sarà davvero Fratelli d'Italia dover esprimere un candidato, questo candidato potrebbe essere anche Guerrino Testa? Ma non abbiamo fatto nomi, non abbiamo fatto identikit, io da sempre mi metto a disposizione del partito ma non penso che questo sia oggi all'ordine del giorno, all'ordine del giorno sia quello di trovare una persona che possa veramente far fare il salto di qualità a questa regione, che possa trovare il consenso ampio e assoluto da parte di tutti i partiti della maggioranza. Ma il tavolo romano ha fatto saltare gli schemi anche in Forza Italia regionale dove il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha già annunciato che per il momento non ritirerà le sue dimissioni e dove sono ancora forti i nomi di Fabrizio Di Stefano, gradito anche alle liste civiche, e Mauro Febbo. Segno che in Forza Italia comunque non c'è molta voglia di arrendersi a quanto deciso dai leader nazionali.